Ma se tra questi edifici mi fa un senso di agonia raga che è veramente incredibile E ciao a tutti ragazzi sono Adri bentornati sul mio canale siamo ancora qua col nostro Luis Lopez Per la missione numero 19 di GTA 4 The Ballad of Gay Tony Ne mancano otto alla fine della storia e oggi andiamo con Lady's Night dopo Not So Fast una missione incredibile Dove abbiamo attuato tutti i superpoteri del Buzzard di Yusuf ma oggi è un'altra storia Fa un cuoreva La la pita nico La la pita nico Non so se puoi assaggiare con l'accento Ok? Ma lei si è un'unica sottosa Della Che si stavate su un bel pezzi Per capire che i businessi devono essere sottosti Oh, qui è iniziato, eh? Qui si vanno, eh? Oh, io vedo in le dici Mi sento, mi sento, questo è il momento che mi ha fatto Questo è il momento per me rendita Questo è il momento per l'apprentissima Oh, man, tu pensi che sono finita? Non sei così tuffo, Luis Noi non si trattare, tu sottotica Oh, no, fai tu lui, Luis Oh, come on, Tony, chill out No, tu sei Tu sei certo, tu sei non il problema, io l'ho! Tony, cosa fai la f***? No, sto guardandovi! Io vedo questo ora! Io vedo questo ora! Il problema che ho mai avuto a un figlio! Scusate Luis, ti amo! Ciao! Tony, vieni ragazzi! Ciao! Io ti amo! C***o! 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 Sip! 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 Im期待! Se è somewhere inFranklers C***o! Sip! 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 Tujä! Sip! Ok Gil. Alguien! Sip! usanves! Sip! C***o! Un altro elicottero C'era un gambello da ammazzare Gesù Cristo Ho visto la morte in faccia Ho rischiato un'altra volta Diciamo che lui sa un po' ragione Bello il GPS che ti fa passare su un marciapiede Fantastico Posso aprirlo così? Yes Brutta colorazione mi dicono A casa di chi? So this isn't about crazy It's about saving our own asses Yes this is a purely selfish act Are you happy now? Yeah strangely I am Now that I've realized I'm being black belted Into doing this It's become a lot clearer Great How are we gonna get out of this Tom? What? All this shit piling down on top of us How are we gonna get out? Have we got a plan? I don't know We can play the lottery Start a little Ponzi scheme Buy some cheap diamonds And try to sell a lot of profits Oh wait We've tried that And it's not going so well Fair enough You could marry a billionaires That might get us out of our problems Oh yeah I've already been picked off once And I nearly got killed because of it That's the house Up there Ah Ok posto Oh Paki Ciao Paki McQuarrie Come stai? Quant'è che non vedevo questa casa? I think that's their car Lou The red one Let's follow it Va Seguito E poi Ah no È vero Non possiamo averla giocato Dall'altro punto di vista Questa missione Secondo me Sta andando Nell'appartamento Dove hanno rapito lei Perché quella era a casa sua Oh Rispetta le regole della strada Coglione Lo andando Ok I take your point Ok 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 I take your point if you see him stopping let me know you'll see him stopping too bro bring on to sleep on me are you you think I could go to sleep in a moment like this? Sì. Merda! Uh, come va veloce, però. Minchia, rapidissimo! Nuvolari! Perchè attraverso il parco? Oddio! Ho rivisto la morte in faccia un'altra volta. Passare tra questi edifici mi fa un senso di agonia, raga, che è veramente incredibile. Quando stoppiamo il fuoco, raga il boss per la batteria. Dopo il tempo che si tratta di cuocere, vedremo esattamente dove la grazia è. Questo è un grande po' di improvvisazione, Lu, ma credo che dovremmo solo seguirli. Guarda, è andata nel titolo del posto! Ok. Non ando in qui, T. Pensi che voglio che tu ci uccidiamo? Andate a incontro dove viene fuoco! O dove prendiamo questo shopper! Ok, boss. L'uscita dovrebbe essere qui, credo. Diciamo che l'elicottero non è la cosa più comoda da guidare. Beh, forse si è capito. Minchia, ha traversato tutte le isole sto tizio. Che poi ha pagato il pedaggio, poteva attraversare da un altro ponte e ci andava diretto nell'isola di mezzo, no? Grande! Intelligenza fatta a persona, proprio. Ok, dovremmo essere qui. Ok, dovremmo essere qui. Perchè ha pagato il po' la città e l'altra po' la città è morta. Paranoia ha avvisato la nostra situazione. E' lui, non c'è? Beh, dovremmo portarci a Gracie ora! Oh, è fissuto. Eh, se ha fatto una seghina, ci sta. O magari non è lui! Probabile. Da qua la missione? Ok. Per fortuna è vicino alla pista. Minchia, ci siamo fatti tutta la mappa. La nostra macchina è sempre lì dove l'abbia lasciata, tra l'altro? Qualcuno ce l'ha anche parcheggiata a modo, grazie. C'è stato il parcheggiatore abusivo che c'era prima. Comunque ci siamo. Ok, ragazzi. Lasciami se li trovano Gracie. Ho spero che per l'altro l'abbiamo. Ci vediamo presto, partner. Qui c'erano un zigzag. 86%. In seguimento avvicinato non so cosa voglia dire e quanto vicino dovevo stargli, comunque 86% è fatta benissimo o ce la farò a fare un 100% prima della fine. Dato che comunque le faccio tutte a primo colpo Perché 12 anni non gioco a sto gioco Quindi capitemi anche voi Siamo arrivati alla fine di Lady's Night La prossima sarà per Ray Bulgarin Going Deep Eh Se le missioni per Ray Bulgarin Saranno molto molto toste O come dicono a Roma Crevi Vado a salvare Che vado anche a dormire Se me lo concedete Grazie ragazzi della visione Lasciate like al video Iscrivetevi al canale Da Andrea è tutto Un bacione